Prima di parlare della griglia bisognerebbe parlare di altre cose. Uè, quando hai finito vedi di lasciare tutto in ordine ben pulito, eh? Che è da stamattina alle 8 che sto qua a pulire per te e per gli altri 22. Buongiorno. Scusi, ma questi di chi sono? Ma che ne so, i miei non sono, saranno di un suo collega. E comunque non è il compito mio, non è il mio lavoro, io non sporco, pulisco. Questa è la destinta dei giocatori. Ok, è scritto tutto qua, chiaro? Guardi bene e non sbagli. Non come il suo collega. Eh, quello dei calzini. Domenica scorza non è riuscito a portarli via. È dovuto scappare. Magari poi glieli porta lei. Domenica sinner. È dovuto cuore la prestazione. È dovuto cappare. È dovuto guileri. È dovuto cazzo. Giudice Figaro, buongiorno. Buongiorno Antonio, tutto bene? Tutto bene, e finché c'è la salute? Mi ho preparato tutto, spero che si trovi bene come al solito. Ma comunque, qualsiasi cosa, a disposizione. Lei è sempre molto gentile. Pronto? Ma te l'ho già detto, ma quante volte te lo devo ripetere. Come infatti? È solo che hanno messo fuori gioco i due assistenti e allora ha dovuto fare tutto da me. Ma era una cosa da poco, un tiro telefonato che bastava intercettare. Io non ne posso più delle tue continue pressioni, ho deciso che lascio la famiglia. Eh no, io mi permetto, non mi frega niente. Comunque, ora basta. Eh eh, paparesta, paparesta. Guarda che non sono mica tuo padre. Sì, in zona Cesarini. E chi ci si mette a rovinare tutto? Alla squadra che giocava in casa ho dato la massima punizione possibile. Il portiere, fuori? Come potevo buttare fuori tutti? Come? Ah, Totti. No, non potevo, no, era proprio palese. È stato il cieco a travolgerlo, non l'ha visto. Esce, capito? Va a farfalle, raccoglie margheritine. Da quella porta sono entrati tutti, tutto. Totti, quello è un assenteista. È uno che lavora per sport. Cambiatelo. Cambiatelo. Sbattetelo per niciare i parafanghi della 127 Sport. Sì, so benissimo che è grazie a te che sono qua. E so anche che senza di te non saprei né che giorno è, né che ora è. D'accordo, d'accordo, va bene. Cercherò di fare il possibile, ok? Bacioni. Ciao, ciao, ciao. Le mamme, sempre tutti apprensive. Eh sì, sembrava piuttosto il padrino. Sì, sembrava piuttosto il padrino. Sì, sembrava piuttosto il padrino. Aprite, aprite! C'è un pacco per lei. Grazie Antonio. Io vado. Ci vediamo dopo. Vada, vada, vada pure. Ci penso a tutto io qui. Lei si concentri e diriga. Faccio il suo dovere. E' usata. Ma dovete solo il pool E' usata. So, via, vi entrave. Ma dovete solo il pool E' usata. E' usata. E' usata Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.